Febbraio è il mese degli innamorati, e da tutti voglio fare gli auguri. Ora mi presento. Io sono una foto parlante, generata dal Bintelligenza Artificiale, che a differenza degli avatar, non muovo né corpo, né arti, mentre parlo, ma solamente le mie labbra, sono in sincronismo con il parlato, per tutto il resto, siamo uguali. Posso parlare più di cento lingue, ed in tutte le tonalità.